Musica in quota vive la stagione del 2020, la stagione che avrebbe dovuto creare dei problemi a tutti, sarà vissuta in maniera attenta, in maniera responsabile e consapevole, ma attraverso la possibilità di vivere delle esperienze uniche come quelle che dà la musica in montagna. Nove appuntamenti che percorreranno ancora i luoghi stupendi del nostro territorio dell'Albano, del Cusio e dell'Ossola, con altrettanti gruppi importanti che allieteranno all'insegna del piacere dell'ascolto della musica e della visione degli ambienti naturali, ma in sicurezza. Quello che chiederemo sono appunto le attenzioni rispetto al distanziamento, rispetto al lavaggio con le mani, naturalmente mettendo a disposizione noi i prodotti e il distanziamento anche durante l'escursione, escursione che non sarà guidata quest'anno proprio per i ben noti motivi, le nostre guide saranno però all'arrivo, nei punti in cui si terranno i concerti, a raccontare le particolarità storico, ambientali e culturali del luogo in cui sia, ma quest'anno anche due appuntamenti particolari. Uno è una collaborazione preziosa con Tons and the Stones che ci permetterà di offrire il 23 di luglio alla Cava Roncino di Oira, Paolo Fresu e Ramberto Ciammarughi in un concerto importantissimo per noi e con una chiave che ci accomuna, Musica in Quota e Tons and the Stones offrono palcoscenici diversi, palcoscenici naturali e siamo lieti di poter insieme organizzare un evento con queste caratteristiche. Il secondo è un omaggio nell'anno rodariano 2020 a Gianni Rodari, una quota non molto elevata ma un bel segno di riconoscimento e di ricordo al Monte Zuoli, alla torta in cielo di Omegna, con un gruppo particolare, circensi, forfare, bolle di saponi, qualche cosa legato ai bambini al mondo di Gianni Rodari. Venite a Musica in Quota, vi aspettiamo.